Come prima cosa andremo a vedere la parte relativa alle tabelle, quindi anche ai grafici, quindi noi possiamo operare qua una scelta infinita ovviamente in maniera separata tra fondi, etf, azioni, noi abbiamo come vedete fondi, etf, azioni, indici e azioni estere. Noi possiamo andare a scegliere ad esempio la categoria, facciamo ad esempio large mid cap grow, noi vediamo che dopo un attimo di tempo il fondo ci restituisce una serie di titoli, ho preso azionario USA, facciamo internazionali perché così ne compaiono un po' di più, compaiono due pagine di titoli. A questo punto la possibilità di ordinare questa nostra tabella in vari modi, innanzitutto possiamo ordinarla per valuta, abbiamo una sezione alert che ci dà il buy now quando scatta un ingresso di trend indicator, oppure possiamo vedere nella sezione signal se siamo già long o se siamo flat, quindi diventa un discorso molto intuitivo, siamo long o siamo flat, ovviamente inteso come trend indicator. Il trend indicator in questo caso è rialzista, possiamo ordinare per eti, possiamo vedere da quante settimane è long, settimane o giorni, lo possiamo cambiare qua in alto, quindi possiamo fare le nostre indagini settimanalmente o giornalmente, potete vedere all'interno di questa fase rialzista quanto è in questa operazione specifica il gain di trend indicator, inteso da quando è entrato questo segnale long, oppure vedere nella storia globale del titolo come si è comportato attraverso questa colonna che ci dà il risultato totale. Aprendo un grafico qualunque attraverso questa icona possiamo visualizzare il grafico, dal grafico possiamo fare molte cose, innanzitutto il grafico è semplice, intuitivo, abbiamo tolto qualunque tipo di interpretazione, ma semplicemente come vedete voi avete il segnale long, in questo momento è scattato un segnale long e il titolo ci dice compra se supera 291.30 e qua il sito ci dice ok, è scattato questo segnale, abbiamo comprato, quindi siamo entrati in posizione. Quindi il sito ci dice puntualmente lungo tutta la storia quando entrare e quando uscire, quindi diventa davvero facile. Possiamo vedere il grafico daily, il grafico weekly, possiamo vedere che cosa sarebbe successo se io avessi seguito nella storia tutti i segnali del trend indicator e lo possiamo fare con l'equity close to close oppure con l'equity detail. La differenza tra le due sta che l'equity close to close prende in considerazione solamente le operazioni chiuse, quindi io compro a 10, vendo a 20, l'operazione close to close mi segna una linea retta, mentre l'equity detail invece mi fa vedere anche che cosa sarebbe successo nel passaggio fra 10 a 20, quindi mi fa vedere giorno per giorno, voi vedrete che giorno per giorno cambierà questa equity e ci farà vedere tutte le oscillazioni del titolo all'interno del trend, all'interno del trade scusate, all'interno dell'operazione di trend indicator. Quindi dopo che io ho scelto il mio titolo che mi piace perché nella storia ha avuto un buon successo con trend indicator, ha un ottimo valore di eti, allora a questo punto io semplicemente freccia in alto e me lo ritrovo nella mia watchlist superiore. Questa è la mia watchlist personale che mi riconoscerà al prossimo accesso, io troverò sempre i miei titoli e io potrò in qualunque momento vedere subito se qua ad esempio c'è un signal di buy now, un alert di buy now o di sell now. Quindi noi vediamo accedendo a rendimento a fondi tutti i giorni, noi vediamo in maniera istantanea ed automatica, anche se noi avessimo qua 100 pagine, noi possiamo ordinare ad esempio per alert e vedere tutti i giorni se c'è un nuovo ingresso tra i nostri preferiti. Quindi davvero velocissimo. Sotto abbiamo messo anche una sezione top of eti, molto bella perché noi dividendo fra euro e dollaro per tutte le classi di gestione abbiamo raggruppato i 5 migliori per eti, ovviamente i 5 migliori per eti facendo il paio con quanto abbiamo detto prima, se ce n'è, perché se non ce n'è ovviamente il sito mostrerà un risultato solo oppure addirittura nessuno. Quindi anche senza andarli a ricercare, noi possiamo semplicemente scegliere la nostra classe di gestione preferita e andare a ricercare subito in maniera veloce il nostro top of eti. Allora adesso andiamo a vedere la nuovissima parte che è quella più corposa, che è nata poco più di un mese fa ed è quella dei portafogli personalizzati, perché io adesso posso, oltre alle watch list, io posso anche costruire un portafoglio, posso costruire un portafoglio multistrumento. Quindi all'interno del mio portafoglio io posso andare a mettere tutti gli strumenti di rendimento fondi. Quindi non sono più separati per azioni, fondi o etf. Apriamoci in un altro tab quello che vedevamo prima, la nostra bella area riservata, ritorniamo a fare la ricerca per azionari internazionali, large cap growth, mi sta bene. Andiamo qua e vediamo come costruiamo il nostro portafoglio e come lo maneggiamo. Quindi facciamo un nuovo portafoglio, chiamiamolo RIB, in onore di riuscire in borsa, e mettiamo ad esempio come data di partenza 01-01-2010, facciamolo di 10 anni. Scegliamo il time frame weekly o daily, salva. Cos'è che non ho compilato? Vediamo che compare subito il nostro nuovo portafoglio che non ha ovviamente valorizzazioni. Noi possiamo decidere di consultare il portafoglio, modificarlo, duplicarlo, eliminarlo, oppure cambiarlo tra weekly e daily in qualunque momento. Entriamo dentro e iniziamo a popolarlo per motivi di tempo. Lo popoliamo con quattro titoli presi un po' a caso tra questi che abbiamo scelto prima. Prendiamo quattro titoli, non ci curiamo tanto di quello che sono. Ricerchiamo gli is-in, noi vediamo che ci compare l'is-in, ok, molto bene. Facendo semplicemente freccia in alto, noi possiamo decidere di metterlo all'interno del portafoglio, oppure possiamo decidere di metterlo come benchmark. Noi mettiamolo all'interno del portafoglio e gli diamo un peso del 25%. Vediamo che la nostra liquidità, dopo l'inserimento, ovviamente sarà decurtata del nostro 25%. Perfetto. Poi andiamo a scegliere un altro portafoglio o un altro fondo, scusatemi. Prendiamo questo, facciamo velocemente. Andiamo a inserirlo. Titolo già inserito. Ah, certo, perché lo devo cercare prima. Imputiamo il 25% anche a questo. Noi sappiamo anche che prendiamo questo, che bello, c'è anche il famosissimo Morgan Stanley che tutti conosciamo molto bene, quindi andiamo anche a mettere il nostro bel Morgan Stanley che è uno dei fondi migliori della categoria, altrimenti sembra che voglio fare un portafoglio solamente con i fondi che vanno male, invece no, mettiamo anche un bel fondo che va bene, ci sta, andiamo a mettere un bel fondo e gli diamo sempre il 25%. Prendiamo questo qua in versione BP che dovrebbe essere la versione retail per l'Italia, andiamo a mettere il nostro ultimo fondo all'interno di questo portafoglio. Lo ricerchiamo. Ovviamente il database è abbastanza grande, per cui ogni tanto non c'è da stupirsi se il sito ci mette qualche secondo a restituirci il risultato all'interno dei tantissimi calcoli che deve fare. A questo punto il nostro portafoglio è popolato, ok, noi iniziamo a vedere qua quelli che sono i risultati di portafoglio all'interno dei nostri dieci anni che abbiamo scelto, avremmo avuto una performance dell'83,97%, performance calcolata non sull'equity, ma calcolata sul Trendy Keto, quindi cosa sarebbe successo avendo seguito nella storia il Trendy Keto.